Alle 10, questo sarà della provincia ovviamente, saranno presentati e sarà consegnato anche a tutti i comuni, a tutti i sindaci dei comuni che parteciperanno, ovviamente anche a chi in possibilità manderà un rappresentante per questo studio che la provincia già da due anni ci lavora con l'Università di Studi di Reggio Calabria, con la Mediterranea, proprio per lo studio della difesa del suolo per quanto riguarda tutto il nostro territorio della provincia di Reggio. In particolare saranno segnalate tutte quelle emergenze, tanto in questi giorni si sta parlando molto anche su un recente studio fatto da altri enti, su un approfondimento complessivo di tutto quello che riguarda il rischio frane, il rischio idrogeologico di tutto il territorio della nostra provincia. Riteniamo che possa essere uno strumento utile anche per l'alto valore scientifico, soprattutto quello che potranno essere gli studi che ogni singolo comune dovrà e potrà affrontare nei propri territori. Quindi crediamo di completare quella che era un'attività che abbiamo dato inizio, due anni or sono, proprio per completare, come abbiamo già fatto per la difesa costiera, anche questo ITAR che pensiamo possa essere interessante, importante, ripeto, per l'alto valore scientifico che ha per tutti i comuni del nostro territorio della provincia di Reggio Calabria. avvermente parteciperà anche il segretario dell'autorità di vecino della Regione Calabria con cui in questi anni ci siamo sempre rapportati con l'ingegnere Salvatore Siviglio, oltre ovviamente al rettore della Mediterranea e al geologo Mandaio che ha curato insieme al Dipartimento tutto l'ITAR che è stato eseguito fino ad oggi.